Partecipare alla cerimonia ufficiale dell'apertura dell'anno scolastico alla presenza del Capo dello Stato la maggior parte di noi l'ha vista in televisione, ma per alcuni fortunati questa è stata una giornata particolare. Una scuola del nostro territorio, la Leopardi di Colli al Metauro, era a Taranto per l'apertura di quest'anno in rappresentanza delle Marche. Un piccolo grande risultato per una piccola grande scuola dove nei corridoi si respira ancora l'odore di una volta ma che è all'avanguardia nella progettualità e negli interventi dei suoi docenti. Noi siamo andati ad incontrare il preside e quelli protagonisti di questo bel risultato collettivo. A volte si crede che nelle grandi città ci sia la maggiore qualità e invece è bello scoprire che anche nelle zone limitrofe veramente si può fare molto bene e in questa scuola è stato fatto, quindi proseguiremo su questa strada. Allora, partecipare all'apertura dell'anno scolastico in presenza del Capo dello Stato non è cosa da poco. Come siete riusciti ad arrivare a questo risultato? Siamo stati selezionati grazie ad un progetto presentato nello scorso anno scolastico, Terra Bene Comune, la cui titolazione parte un po' da lontano. Eravamo stati precedentemente classificati tra le prime dieci scuole per l'Expo, nella manifestazione Expo di Universale di Milano 2015 e avevamo pensato di proseguire in questo intento, cioè di fare riscoprire ai ragazzi il locale, il territorio locale, con tutto quello che ha in sé su bellezze paesaggistiche, tradizioni, valori, memorie, cultura. E parte da lì la nostra azione progettuale, ma si è spostata incentrando l'attenzione su quella che è la sostenibilità ambientale. L'impellenza, l'urgenza oggi di quello che l'ambiente richiede e per quello che sta succedendo all'ambiente tocca anche i ragazzi da vicino. E quindi abbiamo voluto con loro lavorare su un'attività riscoprendo quali possono essere per i ragazzi quelle buone azioni, quelle buone pratiche da spendere sul territorio. È stata una bellissima esperienza. Poi l'essere citati e essere stati in qualche modo individuati come scuola, delegazione delle Marche, insieme ad un'altra scuola di Corredonia, ci ha fatto oltre modo piacere, per cui anche le ragazze erano molto emozionate, dico la verità, e noi pure. In alcuni passaggi è stato anche, nei passaggi sia del ministro, ma anche in vari passaggi dei ragazzi, ci sono stati dei momenti, direi, molto commoventi. Grazie a tutti.